ed eccomi qui pronto pronto a prendere a colpi dash robe e bagare con mio figlio che si attacca come una zecca sulle mie spalle per qualsiasi azione io debba fare detto questo prima di cominciare a mazzolare le robe perché dire le persone è un po complicato mazzolare le robe ma soprattutto mazzolare gli dei della mitologia norreina vi invito come sempre a passare per il mio canale viola cosa che ultimamente qualcuno sta facendo però se casomai vorreste passare anche solo per venire a lasciare un follow una sub se avete più prime una donation visto che ho messo il gol della donation qualsiasi cosa ma anche solo per stare in mia compagnia e fare domande parlare di qualcosa passate passate sul canale viola linkato in basso altrimenti potete seguirmi tranquillamente sugli altri social lasciare un commento scambiarci un commento parlava parlava queste cose qua insomma sono un ottimo youtuber detto questo fa a me cominciare a giocare perché sono pessimo io le intro non le saprò mai fare da qui voglio togliere il gol però perché disturba tantissimo preferisco giocare senza ah cavolo c'è un aggiornamento ce l'avevo davanti agli occhi non me ne sono accorto vabbè una roba veloce infatti già finito gioca si fa su un passarobba sembro della playstation sul computer un steam tra l'altro l'audio pessimo veramente registrato malissimo allora io feci un salvataggio manuale quindi adesso però oh ma questo è atreus morto ah no è una statuina in legno e poi quella di gratos mannaccia la miseria suonato fino a nuovo sono stato in live che aspettavo che entrasse qualcuno non so se si unirà a qualcun altro niente mo ho iniziato a giocare mi prude il naso vabbè mi sono appena fatto i nuovi bracciali si vabbè mi sono appena fatto l'acqua nasconde ore e robe varie vabbè mi sono appena fatto l'acqua nasconde ore e robe varie vabbè mi sono appena fatto l'acqua nasconde ore e robe varie vabbè mi sono appena fatto l'acqua nasconde ore e robe varie vabbè mi sono appena fatto l'acqua nasconde ore e robe varie ho preso la roba che c'era qui sopra vabbè 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il problema è che non mi ricordavo il pulsante per... Il problema è che... 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 Mi dimentico... Mi sono dimenticato un'altra volta il coso per mettere la vita... Li posso fare... Perché uno prima l'ha ammazzato pure... Sicuramente avrei dovuto affrontarli quando... Con un'armatura più adeguata... Però ho visto che ce la faccio... Li posso ammazzare quindi... E' un problema... 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 Ma voi hai detto che si dividono... Bastardi... Sì, sì, sì. no guarda l'avevo quasi ucciso mannaggia e dai però che sto andato all'indietro perché non me l'ha schivato no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah è sempre sigillare Grazie a tutti Grazie a tutti Io non ho ancora capito Come cazzo devo fare La distanza è sempre la stessa Non cambia nulla Oh ciao inferno Buonasera Aspetta un attimo perché Dall'altra parte ho ammazzato uno prima Ma non ha cacciato niente No, 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 no come si piglia questo io veramente non l'ho capito non ci arriva troppo lontano qui lo squash è già stato usato i still can't read these no 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 non ho capito ancora io quella cavolo di 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 mossa no 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 Ah, un'altra mail ho trovato 70 per Lost Ark Micchia, hai voglia di giocare a Lost Ark? Beato, sì Oh, se ti compri il microfono Giochiamo Prima o poi giochiamo Come si chiama? The Hunter That is a brazier A brazier Hmm Looks like there's something written on it Want me to read it? The Axe isn't working On your left I wish I was strong enough to do that Well fought you two You're dead? You're very perceptive And reckless They're costing you But what are you doing? They're costing you lighting these brazier Sailors and Hellwalkers will swarm to the flames like moths I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave Us? Other spirits The lake of Nine is full of them Most are able to move on from this realm But we lucky few are stuck here in Midgard Until our affairs are in order Perhaps you can help them as well We have no desire to help you, spirit Ah, but you already have I only wished to see the sky again Farewell Non mi serve questo A fin... Cala troppo Meno 8 Irrunico E meno 2 La forza Per cosa poi? Fortuna e... E difesa Mmm Bene così Oh, he disappeared Oh, let us not be distracted Oh, let us not be distracted Trova solo roba Come no? It's a fragment of a language cycle We should look for more like this Come si scende lì sotto Come si scende lì sotto So, I guess we should keep an eye out for other spirits What did I say about distractions? But it sounds like they needed help They are spirits, boy Dead things They have no needs Only walks It feels wrong to ignore them We will get over these feelings Mom would have wanted to help them What was that, boy? Nothing I thought as much Boy, don't worry Mom l'aiutiamo Boy I thought it was a good idea 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 Do you want a beach here? Che cacchio è questo, è un gigante? Che cacchio è questo, è un gigante! Che cacchio è questo! Che cacchio è questo? Che cacchio è questo, è un gigante! Che cacchio è questo, è un gigante! Che cacchio 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 è un gigante! Baldur l'ho detto dura già quando ci combattevo contro ... ... il fratello di Thor eh si però se mi chiedi cosa vuole non ho ancora capito cosa volessi molto semplice morta l'interno non aprire c'è un'alchimista che ha lavorato nelle Vellandr mines non ho parlato di lui in magari, non lo so... 100 vinture o so... probabilmente è morto, ma magari tu puoi trovare lui è un'alchimista come me, ha un'alchimista verde mi ha un favorito, guarda se si è sul nostro oh, vedo come è non è un tipo di qualcosa di niente non è un tipo di niente bene se ti trovi Don Vare ti farò farò un'alchimista questo è un'alchimista dovrebbe farlo dentro di queste minze certo, io sono aperto la Vellandr mines è proprio qua queste dalle potremmo 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 vedere dentro non pensi come fai a incrementare la forza che me la abbassa a meno uno? ma non conviene manco... entendeu, bro? che altro? Make you something? Chup some fuckers with that! 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 Right! Lots of luck! Chup some fuckers with that! 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 Chup some fuckers! Chup some fuckers! Chup some fuckers! Chup some fuckers with that! la famiglia rosa la famiglia rosa il il Ben do not drop your guard Come Andà qui Guardate putt'a posta Devi che non voglio come alcun Qu'è c'è questo? Non è lui. Adesso non salta, perché non lo fa saltare qua? Ok. La donna mia uomo le schifo le strega. La spazza sta maschelle. Ok. No ring. We're not gonna find Brock's friend alive, are we? Ok. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Giustamente ti caghi sotto Grazie a tutti 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 Buonasera Grazie a tutti 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 Buona Grazie a tutti 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 Grazie a tutti